Fa una figura simile alla che ha mai fatta nessuno, ciapa! I carabinieri qua dentro portano via gente con le mani e tenono che saranno mai venuti! Ma è stato quello là? Mico, la giustizia! Non ho mai avuto niente da spartir! E dove ti vuole andare adesso? Entra con noi altri! Quando uscirà ti verrai a cercare lui! Ma sì, assi o star, Benedita! Tanto se è meglio perderlo che trovarlo, quella! Ma cosa vuol sto far così sola? Qual manco un tocco di panna e se è sicuro! Ma la moto... La porteremo dai carabinieri che pensano a loro e a dargliela! Don Gersonmina, vieni con noi altri! E io dove do? Com'è? Vieni che ti faccio vedere! Che sei posto perdone a mia carovana! Muovite, bella! Dai, andiamo che sei tutto da smontare! E hai quattro che sei il camion! E ti fa come che te panno! Se ti vuole venire, vieni! Se ti vuole aspettare, lo aspettiamo! Ma con gli altri non lavora mai più! Néuno di quei altri! Mai più! Vai a quel tendo!